E come ogni anno a settembre tornano a riaccendersi le polemiche per la carenza di parcheggi in città, pugno di ferro da parte della Polizia Municipale in centro. Queste immagini che il Tg Max vi propone sono state filmate in piazza d'Amico, ex Pietrosa, che durante le feste di settembre si trasforma in Luna Park per i più piccoli. Vigili armati di penna e blocchetto e carattrezzi all'opera per la rimozione di veicoli in divieto di sosta. Cittadini infuriati questionano con gli agenti, l'Hitmotiv si ripete come un ritornello ogni settembre, impossibile raggiungere il centro in auto non solo per diletto ma soprattutto per lavoro.